I preziosi reperti rinvenuti a Villa Torlogna sono custoditi presso il Museo Tuscolano, tenuti sotto chiave e protetti da sistemi di allarme ultima generazione. Dice Messer Peduto, i tuoi articoli che evidenziano solo le passività, caro Messere, a farvi belli ci pensate da soli e visto che la stampa locale nicchia, nicchia, occhieggia, non rimane che questo, prove inconfutabili.